Buongiorno a tutti, siamo sempre qui con il nostro fantastico Parma e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con delle partite un po' altalenanti dei risultati non troppo convincenti siamo usciti dalla Coppa Italia, abbiamo perso con la Fiorentina ma poi ci siamo, tra virgolette, rialzati con l'Ellas eravamo andati un po' più lenti perché con la Cremonese siamo arrivati addirittura ai rigori una partita infinita oggi avremo Juve e Atalanta, due big match, più possibili situazioni di calcio mercato che ancora non è entrato nel vivo ho letto anche i vostri commenti, intanto Cruz va in prestito i vostri commenti dove vedevo che mi dicevate di prevalentemente, ho visto quello di Paolo che ha commentato anche da poco, anche perché ce l'ho sotto qui in questo momento di rimanere così io sono, diciamo, sono, anche qua vedo Buffon che si sta lamentando sono prevalentemente d'accordo con quello che dice Paolo perché dei giocatori in più oggettivamente potrebbero anche non servirci perché Bernabè comunque sta facendo bene è vero che siamo sempre un po' contati però non avendo neanche troppi soldi per andare a fare un colpo non vedo oggettivamente tutta questa necessità ecco, anche perché abbiamo tirato su parecchi giovani e potremmo pensare di puntare su di loro l'unico magari colpo che potremmo fare è sempre la questione a centrocampista che diciamo che è quello che vorrei un po' sistemare ce ne sono alcuni che non ci verrebbero a costare tanto li vedete qua adesso, a parte i fagioli che vabbè è busio tipo un Marin, non sarebbe male che forse è in scadenza un po' più di... ah, attenzione però, questo non avevo visto stavo a dire un po' più di esperienza poi qua c'è Sensi in scadenza secondo me dovremmo offrire uno stipendio un stipendio un po' alto ci sarebbe anche Ranocchia che non è male Maggiore ancora è infattibile Rogue si potrebbe anche fare lui lo vorrei per la prossima stagione allora io non mi ricordo quant'è il mio giocatore più pagato ok, andiamo a vedere così magari andiamo a fare una trattativa per Sensi che nella prossima stagione come diciamo centrocampista in più non sarebbe per nulla male devo andare qui, scusate e 28k Miretti quindi diciamo che non fa per le nostre casse Sensi comunque per adesso giochiamo così magari in partita mi scherisco un po' le idee vedo anche se si spacca qualcun'altro eventualmente speriamo di no e ci vediamo in campo con la Juve ed eccoci qua allo Juventus Stadium di Torino per questa ventiduesima giornata Juventus-Parma partita molto difficile Juve che diciamo nei piani alti scorsa partita è finita male cioè oddio non me la ricordo sinceramente però mi sembra che non vorrei dire una cavolata ma abbiamo perso non veniamo da un periodo proprio roseo loro hanno dei giocatori diciamo importanti comunque è tornato anche Guluseschi ho visto davanti con Vlaovic e Chiesa fanno un bel trio d'attacco e speriamo di riuscire a contenerli un minimo e di non soccombere come l'ultima volta occhio qua contro piede Juve Zaccaria alza questo pallone per Federico Chiesa che la mette giù manda al bar Cobut occhio ai buchi Vlaovic Vlaovic ancora l'appoggio su Chiesa Cobut torna però non riesce a spazzare perché Chiesa gliela toglie scatenato qua Chiesa intervento all'imine all'imine all'imite di Olaina che concede però solo il calcio d'angolo Juve che però potrà sfruttare questo corner non so cosa sia successo ma altro angolo per la Juve attenzione qua punizione pericolosissima Dusan Vlaovic contro Gianluigi Buffon va anche Alaba forse tirerà Vlaovic no una finta va Alaba mamma mia mamma mia di quanto è uscita di niente l'altro l'ha colpita in una maniera incredibile io sono un cretino perché non ho saltato Buffon forse c'era però palla che esce di nulla grande occasione al minuto 24 per la Juventus l'altro ragazzi volevo solo dire che ho appena finito di vedere la partita dell'Argentina contro l'Arabia Saudita partita fuori di testa l'Arabia Saudita nel secondo tempo ha messo proprio le palle in testa mamma mia Buffon all'Argentina che boh non lo so ha sottovalutato l'avversario non ho la più paura di cosa sia potuto succedere sta di fatto che vince per 2 a 1 e wow cioè comunque una bella partita nel complesso e anche lì c'è la cosa dei recuperi che sono troppo veramente senza senso più 10-15 minuti di recupero è andato in questi mondiali che mi sono un po' esagerato però va bene così l'Argentina perde all'inizio vedremo cosa farà Ronaldo perché l'Argentina praticamente la davano già per finalista anche se personalmente diciamo un po' azzardato per finalista perché adesso non è perché ha perso ma il mio pensiero è che comunque sull'Argentina per carità la davanti non si discute ma dietro qualcosa diciamo traballa ma staremo a vedere questi mondiali ditemi voi sotto nei commenti chi è la favorita secondo voi così da magari parlarne anche un pochettino attenzione qua al buco Tutino aiuto 47 Tutino Tutino passa dal centro per Colombo non ci credo Tutti i movimenti giusti qua Colombo ma cosa si è messo la mano in faccia per tirare cioè si è tappato gli occhi e ha detto sì vabbè va bene partita brutta nel complesso 1-0-0 che tiene tanti errori da parte nostra Juve che ci sta graziando ma anche grazie a una prestazione difensiva che devo sempre elogiare e di solito dopo che lo faccio pigliamo gol però veramente anche dovessimo prenderlo non posso dire assolutamente nulla ai miei due difensori e al mio portiere perché stanno facendo una partita senza senso attenzione però qua eh ragazzi facciamo i matti prima fare i matti con Miala vediamo cosa ne esce fuori tiro troppo debole Farias si ferma bella l'apertura su Miala può andare Miala guarda dentro che c'è Colombo bella la palla Colombo miracolo di Szczesny l'aveva colpita benissimo ma Szczesny si supera prima grossa occasione di tutta la nostra partita disnescata dal portiere polacco attenzione qua dal calcio d'angolo non troviamo nulla c'è Tutino prova a nascondere il pallone lo perde è brutta palla per questa qua da Lugumbo che può ripartire in questi ultimi minuti ma incredibile attenzione l'ultima azione incredibile Farias può andare Farias 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 allo scadere Euro goal di Farias incredibile ma che gol ha fatto Farias all'ultima azione della partita beffa clamorosa della Juventus che era tutta in avanti qua gol da fuori area forse un gol è da fuori area incredibile il nostro Farias ce la risolve così mamma mia che gol però ragazzi questo assurdo assurdo Farias Facundo Farias la fa finire così 1-0 Parma risultato clamoroso questo clamoroso per la partita che abbiamo visto Fischi allo Stadium mamma mia il Parma e spugnano Juventus Stadium all'ultimo respiro proseguiamo quindi adesso dopo questo incredibile risultato attenzione però qua il prestito di Rosco che direi che possiamo anche delegare prestito di due anni in questa squadra sicuro lui potrebbe trovare tanto spazio e il punto adesso è sediamo via tutta sta gente ce l'abbiamo una mini panchina però comunque penso di sì perché ci siamo preparati oggettivamente a tutto Fontan ancora con noi quindi sì sotto quell'aspetto possiamo stare tranquilli e avanzare alla partita con l'Atalanta se non succede nulla a livello di movimenti di mercato accordo qua vabbè Texeira può partire lì ho visto che Buffon ci vuole chiedere qualcosa vediamo cosa cosa c'è Buffon e i mister sono un po' preoccupato sembra che non abbia intenzione sto valutando tutte le opzioni stai zitto Buffon che palle che sei non ci abbiamo soldi come facciamo a far mercato subito Farias al primo minuto di questa partita recupero un bel pallone l'Atalanta che ho visto un po' stanca forse per impegni in Coppa possiamo sfruttare la stanchezza per proseguire nel miracolo sportivo fatto qua subito Colombo prova ad accendere la partita così intanto vi dico che si è ristabilito il Sharawi che della prossima partita penso sia disponibile anche se Tutino mi ha regalato grandi emozioni come Colombo in questo momento che dopo quattro minuti ci porta avanti contro un'Atalanta che non è scesa in campo subito e noi con due volè di Colombo che sembra che si stia svegliando l'abbiamo già portata avanti questa partita attenzione Facundo Farias sempre per Colombo che giocata di Colombo attenzione ancora Colombo Colombo prova a incrociare 2 a 0 forse questa è la giornata di Colombo che sembra il tato con la cazzimma giusta ancora bella palla qua per Tutino che la controlla Tutino prova il cross un secondo c'è Farias fuori gioco tutto buono sembra 3 a 0 però non vedo tutto buono 3 a 0 pensavo fosse fuori gioco netto e invece Farias al momento giusto nel posto giusto in sacca di testa tra l'altro che non è il suo forte 18 gol in 21 partite per Farias giocatore senza senso e senza tempo e wow 3 a 0 ok mi sembra di vivere tipo Juventus-Lazio l'ultima giornata di campionato che non se lo aspettava nessuno ma qua noi stiamo giocando sembriamo l'Arabia Saudita oggi contro l'Argentina mamma mia Olaina partito bello qua l'appoggio mamma mia che palla perfetta per Colombo Colombo in cerca della tripletta forse negata da Musso calcio d'angolo Miretti la mette bella qua per Farias che prova a volare niente da fare altro non so se è tripletta non mi ricordo più chi ha segnato sto vivendo troppo la partita e non mi ricordo niente memoria veramente di merda la mia ok qua il colpo di tacco questo forse è fuori gioco c'è comunque Buffon palla che però rimane lì arriva il 3-1 dell'Atalanta purtroppo lo prendiamo e ci siamo fatti sorprendere qua poi lo pensavo fosse un netto fuori gioco Buffon ottima parata qua però poi non siamo più riusciti a riorganizzarci attenzione a questo gol che può dare molta fiducia all'Atalanta mamma Buffon ragazzi subisce anche fallo ha fatto il miracolo qua che fa finire una volta per tutte questa partita tosta in questo secondo tempo forse l'Atalanta si è svegliata tardi con i cambi e tutto e noi abbiamo un altro risultato veramente straordinario battiamo pure l'Atalanta e voliamo adesso sulle ali dell'entusiasmo nella prossima partita contro il Venezia che sarà la fine di questo calciomercato e posso dirvi con certezza che mi è venuto in mente un altro attaccante di esperienza che potrebbe piacere un po' a tutti ma devo capire quanto effettivamente sia fattibile come colpo perché secondo me non lo è beh infatti Luis Muriel ragazzi se n'è andato al Bayer Monaco niente è andata anche questa non va me ne è venuta in mente un altro però non lo so niente i miei sogni non sono stati infranti perché volevo proprio i due attaccanti dell'Atalanta ma tutti e due sono andati in squadre abbastanza forti e quindi non possiamo permetterceli adesso arriveremo alla partita contro il Venezia Venezia che abbiamo già affrontato in serie B l'anno scorso qua salutiamo Rosco che parte in prestito questa squadra di Natale speriamo possa giocare tanto e crescere e niente io direi che possiamo avanzare senza alcun tipo di problema e contro il Venezia speriamo di trovare un'altra vittoria adesso guardiamo anche la classifica che è un po' che non la guardo la classifica ci vede al settimo posto e attenzione perché siamo lì e vediamo in queste ultime ore di mercato se succede qualcosa due ore alla fine successo assolutamente nulla siamo andati velocissimi a quanto pare rimarremo così non succederà niente perché finisce ora l'ultima ora di mercato sul mercato più statico che abbiamo mai fatto si conclude mi chiedo scusa se magari è stato un po' statico come dicevo prima ma non si sono presentate occasioni a nessuno si è fatto avanti per Farias che era diciamo la mia paura più grande ecco e quindi niente rimaniamo così come siamo qua adesso pezzella vado a rifiutare i giovani fatemi vedere se c'è qualcuno che vale la pena questo mamma mia mamma mia 57 sarò un po' più forte eh figlio mio 57 proviamo a metterti ai drippling velocità ma non hai tiro eh tosta qua sei tosto da sistemare proviamo a metterti alla destra mi sa che prenderai un bel volo tu quand'è che li fai gli anni arriviamo alla partita contro il Venezia qua adesso ci arriva l'offerta di prestito che andiamo a delegare prestito anche di due anni per Fontaine che partirà poi quest'estate direi che è ottimo e ci vediamo in campo con Venezia che è a 18 punti ultima partita di questo episodio e vediamo di concludere al meglio mamma mia come ha pareggiato il Venezia qua ragazzi e passa in vantaggio dopo 11 minuti palleggio incredibile qua nell'1-2 qua si gira benissimo scarico dietro il giocatore è lasciato liberissimo di calciare Buffon non vede neanche la palla perché ha Cobut davanti erano in 3 contro 2 anzi 2 lasciati praticamente da solo in area error è grave qua da parte della difesa e Venezia in vantaggio spero che questo sia fuori gioco e non lo è Akgun Akgun mamma mia salva tutto Buffon sul possibile 2-0 calcio d'angolo Aramu sul pallone la batte corta proprio per Akgun che la restituisce all'italiano dietro Johansen ha un po' di spazio Johansen Johansen chiuso però bene la porta che non esce palla dietro mamma mia Buffon altro miracolo si soffre col Venezia si soffre tantissimo bella qua la palla colombola da Farias coi tempi giusti Farias 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 gentilissimo per Bernabè che la deve solo appoggiare in porta gesto fantastico di Farias che al posto della gloria preferisce la sicurezza per tutta la squadra riacciuffiamo la parità dopo aver salvato anzi Buffon ha salvato due occasioni incredibili e meno male tutto è bene quel che finisce bene però siamo sempre sull'1-1 il Venezia si è comunque dimostrato molto pericoloso bella con la palla per Olaina che a campo percorrere Olaina spinge in avanti l'appoggio per Miaila bella qua la palla per Tutino l'abbiamo ribaltata in poco meno di 10 minuti Tutino quando Olaina sale salgono tutte e due con Miaila ed è una tattica perfetta perché crei superiorità numerica la difesa al bar e noi gloria generale 2-1 ribaltata qua a Venezia la partita occhio Buffon mamma mia il Venezia che è partito molto forte in questo secondo tempo sono qua Farias in mezzaline Farias 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 mamma mia mamma mia ragazzi ci è andato vicinissimo un'azione brutta palla persa qua bruttissima mamma mia Caldara gol eccolo lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo è uscito Caldara e 2-2 2-2 del Venezia brutto gol questo subito poi praticamente a fine partita ora bisogna stare attenti perché la possono ribaltare mamma mia Kobut ti amo qua dobbiamo provare forse l'ultima azione della partita con Miretti che la dà quei tempi giusti l'olandese volante fresco velocissimo l'olandese 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 ovviamente mancava il miracolo del portiere qua dobbiamo sperare in un colpo di testa in qualcosa troppo sul portiere però sto pallone finisce qua mi sa la partita pareggio amaro col Venezia vediamo se l'arbitro lascia finire ancora questa occasione Romeo è troppo lento qua il ragazzino che non mi sta piacendo finisce qui purtroppo pareggiamo col Venezia che acciuffa un pareggio che poi nel complesso si è meritato perché non posso dirgli nulla hanno giocato fino all'ultimo molto bene infatti anche i dati rappresentano un ottimo equilibrio il pareggio risultato giusto peccato perché noi come al solito pecchiamo in certi momenti di presunzione non la chiudiamo e poi questo è il risultato per questo video è tutto se vi fosse piaciuto lasciate un mi piace e un commento in base a tutto quello che mi volete dire sono sempre pronto ad ascoltarvi per il vostro video ci vediamo al prossimo video grazie a tutti